Gloria al Signore. Allora, Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetti da 35 a 38. Gloria al nome santo del Signore. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoge, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua messe. Fino a qui la lettura della parola di Dio. Ora, il versetto che i versetti, che sento nel mio cuore di meditare con voi, sono i versetti 37 e 38. La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua, scusate, nella sua messe. Il Signore Gesù vide la necessità, e chi meglio di Lui, che c'era, osservando le folle. Lui era consapevole, a differenza nostra, noi abbiamo forse la percezione del bisogno che c'è del Vangelo. Sentiamo nei nostri cuori questo desiderio di parlare di Gesù, ma il Signore, egli è Dio, conosce perfettamente che c'è questa necessità della salvezza. La messe è grande, in altre parole c'è tanto lavoro da compiere. Lo Spirito Santo dovrebbe far sentire nei nostri cuori l'urgenza di questa missione, cioè di dover annunciare il Vangelo, come è stato detto, in testimonianza. E noi ci troviamo, fratelli, proprio negli ultimi giorni della pazienza del Signore, lo diciamo sempre, che Gesù sta per tornare, per rapire la sua Chiesa. E allora l'urgenza qui probabilmente è maggiore. Abbiamo bisogno di diffondere maggiormente il messaggio della parola del Signore, ma come? Con l'aiuto dello Spirito Santo. Questo l'abbiamo detto un po' in tutte le salse, in tutti i modi. Abbiamo letto anche ieri nella riunione che abbiamo fatto tramite YouTube. Dice, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Ora, approfitto per chiarificare una piccola cosa, perché ieri ho letto un commento, dice, ma allora se non sono battezzato nello Spirito Santo, io non vado in cielo, Gesù non mi rapisce. No. Perché la salvezza è il dono di Dio. Quando noi nasciamo di nuovo, noi da quel momento in poi siamo salvati. Il battesimo nello Spirito Santo è un'altra cosa, è potenza per poterlo servire. Al versetto 36, mi fermo qua perché ne abbiamo parlato ieri in maniera molto abbondante, nel versetto 36, vedendo le folle ne ebbe compassione. Sta parlando di Gesù, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Vedendo le folle, Gesù ne ebbe compassione. E questo è importante, fratelli e sorelle, per noi che desideriamo parlare di lui. Per noi, avere questo sentimento, vedete, non è sufficiente la nostra bocca, come quando diciamo, lotiamo il Signore, glorifichiamo il Signore, ma non solo con la bocca, ma principalmente con il nostro cuore. Noi non è che facciamo gloria, 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 così all'infinito. No, no, no. Dobbiamo innanzitutto entrare alla presenza del Signore. Essere coscienti che stiamo davanti a Dio. E poi la lote viene da sola, dai nostri cuori. E così anche questo, quando noi parliamo di lui, fratelli e sorelle, dobbiamo essere ripieni del suo amore. Ricerchiamo la pienezza. Non sto parlando solo del battesimo, ma della pienezza dello Spirito, che ce l'hanno coloro che accettano Gesù come proprio personale salvatore. E questa è un'altra domanda. Dice, ma perché uno che non è battezzato può essere ripieno? Certo che può essere ripieno del Signore. Certo. Ci sono fratelli, sorelle, purtroppo, che parlano in lingue, ma poi non si comportano bene. Dice, ma parlano tante lingue. Sì, ma non è quello, fratelli e sorelle. Non è solo quello. E questo è un altro argomento. Diceva l'Apostolo Paolo, infatti l'amore di Cristo ci costringe. Ecco il punto, fratelli. Noi non è che parliamo così tanto per dovere. È un dovere. Sì. È pur sempre, come dice Paolo, un incarico che il Signore mi ha dato. Se lo faccio volenterosamente ne ho premio. Comunque è sempre un comando del Signore. Però noi vogliamo essere sospinti, quando parliamo di Lui, dal suo amore. Diceva un fratello, solo ciò che esce dal cuore, tocca il cuore. Io direi, solo ciò, ed è vero questo, tutto ciò che viene dallo Spirito Santo, tocca veramente il cuore, fratelli e sorelle. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Dice la parola di Dio, abbiate in voi lo stesso sentimento, è una cosa grande, lo so, che è stato in Cristo Gesù. Quel sentimento di amore, di umiltà, di compassione. Fratelli e sorelle, ma una domanda che io faccio a me stesso, ma la faccio anche a voi. quando ci troviamo davanti delle persone che non hanno accettato Gesù, quando guardiamo il notiziario, quando ci soffermiamo a guardare il mondo intorno a noi, qual è il nostro atteggiamento? La critica? Il giudizio? Beh, Gesù non fece così e lo poteva fare. Vedendo le folle, vedendo questo mondo, Gesù ne ebbe compassione. Aveva pietà di queste persone. Tant'è vero che quando lo stavano uccidendo sulla croce, egli disse, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Signore aiutaci a essere un pochettino come sei tu. Un pochino. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Ancora prima dice la messe è grande, ma pochi sono gli operai. E qui ci dobbiamo fermare un attimino, fratelli, perché le parole di Gesù vanno considerate. Pochi sono gli operai. eppure riflettevo di insegnanti, di maestri ebrei, ce n'erano all'epoca. C'erano i farisei, i dottori della legge, c'erano i sacerdoti, c'erano tanti maestri, le scuole rabbiniche, le sinagoge, e Gesù fa questa affermazione. Pochi sono gli operai. Noi sappiamo, avete capito, dove la parola del Signore vuole arrivare. Purtroppo quegli operai lì non raccoglievano anime per il Signore, ma svolgevano quel servizio per loro stessi, per i propri interessi. Fratelli, dobbiamo stare attenti quando serviamo il Signore, che non lo stiamo facendo per noi stessi, per mettere in evidenza noi stessi. Questo è un problema enorme, fratelli. E l'avversario ci prova, come sei stato bravo, come sei stata brava, brava, hai detto quelle parole, tu sì che sai parlare, e cerca di portarci un po' più in alto, vero? Così almeno più in alto andiamo e più facciamo il botto quando cadiamo, perché poi il Signore dice chi si innalza sarà abbassato. Io lo dico spesso, è nell'indole dell'essere umano il volere essere messi in mostra. Anche nel popolo del Signore. Ci sono quelli che se non vengono messi in mostra non c'è niente, non fanno niente. Noi vogliamo ricercare, fratelli, quei servizi che gli altri non vedono. Certo, poi se dobbiamo predicare questo lo dobbiamo fare, insomma. ma dobbiamo curare gli interessi di Cristo, curare gli interessi, lasciatemi parlare in questo modo, della Chiesa. E questo significa anche una rinuncia a noi stessi, fratelli, alle nostre pretese, ai nostri desideri, perché Dio ci benedirà, fratelli, se noi arriviamo a questo. Dobbiamo, fratelli, un pochettino mettere alla prova noi stessi in questo modo, cioè vedere se il nostro servizio, quello che stiamo facendo, come dice l'Apostolo Paolo, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Ecco, ho toccato il punto. Filippesi, capitolo 2, leggiamo, versetti da 19 a 24. Filippesi, capitolo 2, versetti da 19 a 24. Già ai tempi di Paolo c'erano questi operai fraudolenti, questi mistificatori, queste persone che andavano in giro e svolgevano un servizio che non era proprio per il Signore. E qui Paolo scrive, attenzione a queste parole, sta scrivendo ai filippesi, Or spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Attenzione a queste altre parole, infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che Gli ha dato buona prova di sé perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo. Appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione, ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. Versetto 21. È un'affermazione forte a mio parere, perché all'epoca c'erano tanti servitori di Dio, insomma. Però Paolo dice al versetto 21 tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Quando noi, fratelli, vogliamo servire il Signore per noi stessi, cioè per portare avanti la nostra persona e basta, è proprio lì che si creano le fratture nell'opera del Signore. Noi dobbiamo andare avanti insieme, fratelli e sorelle, di pari consentimento e se questo, se il mio tirarmi indietro, rinunciare a qualcosa, produce edificazione nella Chiesa, io lo faccio. Vi dirò qualcosa in più, fratelli. Non ve lo dovrei dire, ma ve lo dico. Io prego quasi ogni giorno, non sempre, non tutti i giorni, e dico, Signore, se io sono di impedimento alla Tua opera, fammelo sentire, perché io faccio subito le dimissioni, all'istante. Dice, eh, ma che preghiere fai? Sì, sì, certo. E che ne sappiamo noi se involontariamente, perché solo involontariamente, possiamo creare dei danni all'opera del Signore. E allora, siccome questo mi preoccupa, lo metto davanti al Signore e cerco di capire quale possono essere le cose sulle quali io posso rinunciare per il bene dell'opera del Signore. E quello che capisco faccio. Poi quello che non capisco non lo posso fare, perché a tutt'oggi il Signore non mi ha illuminato. Tutti cercano i loro propri interessi. E questo, fratelli, ci deve far riflettere. Poi dice dopo, comunque sia, io vi manderò Timoteo. Paolo, guidato dallo Spirito Santo, dice, vi mando lui, perché non ho nessuno di animo pari al suo. Fratelli, se noi vogliamo essere guidati dallo Spirito Santo, dobbiamo rinunciare a noi stessi, dobbiamo avere a cuore l'opera di Dio. Non ci dobbiamo agitare, non ci dobbiamo agitare, perché magari vediamo delle cose che vorremmo stare noi al posto di altri. No, fratelli e sorelle, quello che a noi ci deve spingere è poter amare e servire il Signore come Lui vuole. Eh, fratelli, il discorso è abbastanza lungo. E io mi chiedevo, ma quanti, senza entrare nella critica, sono chiamati dal Signore veramente per svolgere questo compito, di annunciare il Vangelo? La sorella ha riletto quel versetto. Ma come predicheranno, dice, se non sono mandati. Signore, in questo nuovo anno, sì, riempisci a tutti dello Spirito Santo, ma qui la parola dice pregate il Signore della Messe che spinga degli operai nella sua Messe. E lo Spirito manderà degli operai, fratelli e sorelle. Anche oggi il Signore desidera chiamare delle persone, dei credenti, ma noi ci dobbiamo umiliare. Chi vuole venire dietro a me prenda la sua croce, rinunzi a se stesso e mi segua. Certo, se noi vogliamo i primi posti, penso che il servizio a Dio, la chiamata di Dio, ce la possiamo proprio scordare. Scusate queste parole così forti. Ma se noi ci umiliamo gli uni gli altri, ci sottomettiamo gli uni gli altri e cerchiamo il bene di tutti, non di pochi, noi vedremo la gloria di Dio. Il Signore questa tipologia di credenti vuole e desidera e di questo ne sono convinto. L'uomo sì, può affidare dei compiti e vado alla conclusione, fratelli e sorelle, a volte c'è questa corsa, ne ho sentito parlare, non ci sono mai capitato in mezzo, grazie a Dio, almeno su questo non ci sono capitato. La rincorsa agli incarichi spirituali. Ah, ma hanno affidato quest'incarico nel comitato. Fratelli e sorelle, ma se noi ci affidassimo ai compiti dell'uomo, insomma, le soddisfazioni non sarebbero poi così grandi. A noi piacerebbe veramente vedere lo spirito che ci chiama. Atti capitolo 13, quando la Chiesa si riunisce e dice appartatemi Paolo e Barnaba per l'opera alla quale io li ho chiamati. Fratelli, una domanda, vogliamo essere chiamati dal Signore? Vogliamo essere usati dal Signore? Allora, in questo anno, dedichiamoci alla preghiera, consacriamo il nostro cuore a Lui ed il Signore si userà di ciascuno di noi. Gloria al nome santo del Signore. Allora accadrà veramente, fratelli, se noi ci umiliamo davanti a Lui allora veramente potremmo sentire quella voce che dirà come diceva di Isaia chi manderò e chi andrà per noi? Chi manderò fratelli e sorelle? Questo dice il Signore attraverso la Sua parola. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare fratelli. Gloria al nome santo del Signore. Isaia rispose Signore manda me. Alleluia. Grazie.